Benvenuti, siamo con la professoressa Elisabetta Nigris, docente di progettazione didattica e valutazione presso l'Università di Milano Bicocca, delegato della rettrice per la formazione docente e faculty development, coordinatrice del gruppo di lavoro ministeriale su valutazione descrittiva nella scuola primaria ed autrice di numerosi testi e articoli sul tema della progettazione didattica, del rapporto fra didattica e didattica del discipline e sulla formazione docente. Benvenuta professoressa. Buongiorno, buongiorno, bentrovato e grazie di questo invito. Professoressa Nigris, per cominciare la nostra intervista vorrei chiedere che cosa si intende per valutazione all'interno di un processo di insegnamento e apprendimento. Valutare significa dare valore, quindi la valutazione ha la finalità più ampia di dare valore al percorso di apprendimento di ogni singolo alunno. Quindi del percorso che un alunno fa dallo stato di partenza, diciamo, a quello di arrivo alla fine del processo di apprendimento rispetto a un'attesa dell'insegnante, rispetto a qualcosa che noi pensiamo debba conseguire. Quindi più in generale lo scopo della valutazione non può essere solo, anche se sicuramente questa è una funzione importante, quella di certificare, attestare, rendicontare. Ma lo scopo ultimo della valutazione è quello di sviluppare apprendimento, è quello di migliorare il processo di apprendimento di ogni alunno, accompagnare, facilitare il miglioramento di ogni alunno. Per questa ragione si dice che la valutazione non è solo valutazione degli apprendimenti, che è quella più certificativa, che comunque compiamo, ma è soprattutto, dal punto di vista del processo di insegnamento e apprendimento, quella per gli apprendimenti. La licenza parla in questo senso di valutazione di quarta generazione. Chiaramente, che cosa serve se per valutare in modo formativo, con un approccio che alcuni chiamano formante, con valenza formatrice, altri più in generale di valutazione formativa, che cosa mi serve come insegnante per valutare in modo formativo? E quindi per accompagnare il miglioramento di ciascun alunno e quindi in ultimo dei risultati di un sistema scolastico di tutto il paese. Cioè, per un paese come il nostro, l'obiettivo è quello di avere la maggior parte dei cittadini più preparati possibile, cioè che hanno sviluppato al massimo le loro potenzialità. Che cosa mi serve per valutare in questa direzione? Mi serve innanzitutto avere una chiarezza di che cosa voglio raggiungere con i miei alunni, dove voglio andare. Quando si parla di obiettivi, non è un termine tecnico, è proprio che cosa l'insegnante vuole raggiungere con i suoi allievi. Io penso che la valutazione formativa sposti l'attenzione da che cosa faccio oggi in classe a cosa voglio che imparino i miei alunni, oggi, domani, in una settimana, in un mese, in tutto l'anno. Io che cosa intendo per seguire con i miei alunni, come voglio accompagnarli là? Credo che se c'è un elemento positivo, per anticipare un po' questo tema, di questa riforma della valutazione, che ha richiesto agli insegnanti di fermarsi a pensare che cosa vogliono raggiungere con i loro alunni. Quindi non solo il programma, non solo i contenuti, anche perché noi abbiamo un documento nazionale che è molto bello, è molto valido e che sono le indicazioni nazionali, che ci dicono quali sono gli obiettivi, cioè quali sono i processi d'apprendimento che io voglio promuovere con i miei alunni. Quindi non solo storia, geografia, matematica, ma capacità di ragionamento in matematica, capacità di capire il rapporto fra causa e effetto negli eventi storici, classificare i fenomeni scientifici, formulare ipotesi rispetto a un tema, un problema, una questione, un argomento. Quindi le indicazioni nazionali ce lo dicono, il nostro documento nazionale di riferimento ci dice che il tema non sono solo i contenuti, ma è quale processo rispetto a quei contenuti. È chiaro che per avere un obiettivo io devo avere sempre anche un contenuto. rispetto a questo io credo che sia ancora più importante imparare a usare la valutazione per descrivere in che modo ciascun bambino ha acquisito quei determinati processi di apprendimento. se io posso valutare dicendo questo testo è sufficiente, insufficiente, bello, brutto, 5, 6, 7, ma in realtà non sto dicendo niente rispetto a quello che è stato messo in gioco da quell'allievo, quell'allieva in quella prestazione. Oppure posso dire hai capito la natura del problema da risolvere, hai trovato una strategia che funziona, una strategia efficace, si rilevano ancora imprecisioni, disordine nello svolgimento dei calcoli. Nel testo sono state esposte idee pertinenti, è difficile per il lettore accompagnare, cioè capire i passaggi del tuo ragionamento. Cioè sono due cose differenti. Ecco, professore Salia ha toccato un punto cruciale. Partendo da quello che ci ha appena detto e ci ha appena raccontato, ci spiega perché la valutazione descrittiva è più efficace della valutazione numerica. Lei ce l'ha accennato, ma ce lo spiega meglio, più approfonditamente? Sì, allora questo in realtà ce lo dice la ricerca. La ricerca ci dice che i voti non migliorano, cioè dare i voti non migliora l'apprendimento dei ragazzi. serve per dare un'informazione abbastanza generica agli alunni, soprattutto ai genitori, rispetto soprattutto alla classificazione all'interno della classe, quindi al confronto con gli allievi, ma non dà indicazioni a ciascun allievo di che cosa ha veramente imparato, di che cosa ancora non si è appropriato rispetto a quel processo e cosa potrebbe farlo, cosa potrebbe fare per farlo. La ricerca internazionale ci dice che fra i primi dieci elementi che rendono efficace l'apprendimento, quindi che aiutano i ragazzi, le ragazze, a capire, a comprendere, a imparare, a classificare, a ragionare, a memorizzare anche, c'è il feedback, la capacità di dare il feedback. Il feedback richiede che non solo io dica hai colto qual era il problema, hai individuato la strategia, hai ancora una difficoltà nel svolgere con ordine tutte le operazioni e tutti i calcoli, ma devo dirgli cosa fare. Per esempio, prova. Quando è finito il problema, lasciarlo lì 5 minuti a rileggerlo. Prova a fare la prova, cioè fai la prova delle operazioni. Anche indicazioni molto semplici a volte, che peraltro molti insegnanti danno ai loro alunni, quello che ci dice la ricerca è che questo andrebbe fatto non solo e non tanto in quelle poche prove finali che noi usiamo per fare una media o per dare la valutazione finale, ma va fatto lungo il percorso di apprendimento di ragazzi e ragazze, di bambini e bambini. Cioè, mentre io insegno loro per cogliere i segnali di apprendimento e quindi dare indicazioni a loro su come riaggiustare, ma anche dare indicazioni a me come insegnante cosa devo fare perché gli alunni apprendano quello che mi dimostrano di non avere imparato, mi dimostrano di non avere capito, per superare gli ostacoli che sembra che incontrino in quel percorso. Mi serve a rimodulare i tempi, i modi, le attività, gli strumenti perché un altro aspetto che è importante ricordare è che la valutazione non è scindibile dalla didattica, non è scindibile dalla progettazione. Se io mi interrogo e modifico il mio modo di valutare non posso non ripensare al mio modo di insegnare, non posso ripensare se il mio modo di insegnare è efficace o no. Può darsi che mi dica sì, benissimo, efficacissimo oppure dire toh, è efficace con metà della classe ma l'altra no. Allora cosa ci faccio con quell'altra metà? Dico all'altra metà che è la zarona, penso che non sia portato per la mia materia, che ha poche capacità, che non si impegna o penso a delle strategie per quella metà della classe che ha determinate caratteristiche. il mandato di ogni insegnante soprattutto nella scuola dell'obbligo è quello di migliorare le prestazioni e gli apprendimenti di tutti i ragazzi, non solo di quei cinque che sono portati per la mia materia o di quei sette, otto, dieci, quindici a seconda, due delle situazioni, dei contesti che hanno a casa i genitori che li aiutano nei compiti o negli apprendimenti. Ecco, abbiamo detto che lei ha coordinato il gruppo di lavoro che ha reintrodotto la votazione descrittiva nella scuola primaria e adesso ci ha spiegato quanto è importante la valutazione anche all'interno del progetto di educativo. Un problema che si scontra nella formulazione di alcune valutazioni è la netta corrispondenza di quest'ultime con i descrittori, formula che a volte diventa incomprensibile per alunni e genitori ed è anche l'oggetto di molte critiche abbiamo visto anche nelle attività quotidiane di giornalistiche. Ci spiega perché questo tipo di valutazione non è esattamente il meglio e come utilizzare in maniera più efficace proprio i descrittori? Allora, appunto, questo tipo di valutazione come il mandato del Parlamento con una legge che è passata nel maggio del 2020 dopo il periodo pandemico il mandato era quello di formulare una modalità che aiutasse gli insegnanti a dare delle indicazioni perché potessero applicare la valutazione di tipo descrittivo. Per poter descrivere io devo capire rispetto a cosa devo descrivere e quindi le indicazioni dell'ordinanza sono state quelle di dire va bene all'interno del curriculum di istituto che è obbligatorio per legge per ogni istituto scegliete quali sono gli obiettivi prioritari quelli su cui voi concentrate la vostra valutazione perché la valutazione non è mai in astratto io vado a cercare determinate cose e non altre e in un bambino di prima primaria cerco che metta insieme una frase per esprimere un sentimento per descrivere qualcosa in un bambino della quinta primaria o addirittura del secondario di primo grado io chiedo che sappia costruire un piccolo testo organico per illustrare argomentare anche delle idee e dei concetti più articolati rispetto quindi agli obiettivi che io mi pongo come vado a descrivere vado a descrivere sicuramente i processi quindi rispetto a quel processo come dicevamo in una competenza testuale testuale io che cosa vado a cercare la correttezza ortografica la struttura sintattica la struttura del pensiero la capacità di argomentazione vado a ricercare in quel testo come sono stati messi in gioco come sono stati raggiunti quegli obiettivi da ciascun bambino noi però abbiamo indicato quattro criteri o dimensioni scelti per una ragione perché la legge cioè le indicazioni nazionali e la legge 62 ci dicono che le scuole alle scuole è richiesto di progettare e valutare per competenze per conseguire competenze io ho bisogno che l'alunno l'alunna l'allievo l'allieva raggiungano un'autonomia rispetto a quel processo essere competenti vuol dire che io so orientarmi da solo usando le conoscenze e le capacità che ho per risolvere un problema per conoscere un fenomeno per muovermi nel mondo questa è la competenza le indicazioni nazionali ce lo dicono per fare questo io non posso dare solo indicazioni o avere un tipo di insegnamento per cui premastico quello che devono fare gli alunni oppure li abbandono in una memorizzazione di quello che ho detto o in una comprensione innata di quello che gli ho spiegato io devo fare in modo che autonomamente siano capaci di utilizzare quegli strumenti quindi un obiettivo è l'autonomia un altro obiettivo nell'autonomia lo dicevamo è l'uso delle risorse come un allievo un allieva sa usare quello che sa per fare quello che io gli sto chiedendo però allora qui il terzo criterio è che cosa gli sto chiedendo se io chiedo solo se io ho solo richieste compiti consegne di tipo esecutivo di tipo meccanico io non sto rispondendo a quello che mi chiedono le indicazioni nazionali perché le indicazioni nazionali mi dicono che devo tendere alle competenze che io dovrò alla fine della quinta alla fine della terza secondaria di secondo grado valutare come faccio a valutarle se io do solo compiti che non sono per competenze ma sono per cioè richiedono una memorizzazione o al massimo un'applicazione di abilità molto meccaniche molto riproduttive abbiamo spiega ridetto agli insegnanti che devono pensare dei compiti delle situazioni complesse pratico complesse è stato scritto in varie pubblicazioni quindi situazioni non note cioè qualcosa che non gli ho fatto fare rifare ripetere riprodurre sempre nello stesso modo perché quelle sono abilità semplici dovrò proporre delle situazioni più complesse in cui l'allievo non sa già come deve fare deve orientarsi autonomamente l'ultima è la continuità perché io non posso prendere degli spaccati in un momento massimo due ci sono valutazioni che si basano su due prove massimo tre io devo raccogliere diverse rilevazioni mentre i ragazzi apprendono non solo durante la prova di verifica quando discutono in classe quando fanno lavoro di gruppo quando stanno facendo un esperimento scientifico quando stanno provando a interpretare una carta geografica faccio esempi molto concreti e molto diffusi nella scuola io via via rilevo gli apprendimenti in modo avere abbastanza indicazioni per dare una valutazione affidabile perché se no io posso dare tutti i voti che voglio ma posso dare anche i livelli posso fare descrizioni ma saranno impressionistiche saranno improvvisate per dare una valutazione affidabile rigorosa affidabile io ho bisogno di più rilevazione quindi la continuità noi abbiamo dato queste indicazioni a dei professionisti che sono esperti di queste cose che hanno letto la letteratura sulla competenza non abbiamo detto usate queste parole per i bambini per i genitori inizialmente si è detto che si poteva in fase transitoria utilizzare questi criteri diciamo e descrittori così come erano per permettere agli insegnanti di familiarizzare e di appropriarsi di un modo di valutare cui non erano abituati ma quello che c'è scritto nell'ordinanza che a poco a poco bisognava andare non rimanere al modello 1 di pagella di scheda ma andare al modello 3 quello in cui si descrive quello che abbiamo detto quello che abbiamo detto sai elencare i fatti e gli eventi storici ma non sei in grado di collegarli e di capire le cause e gli effetti adesso per esempio sto pensando alla secondaria in questo grado in questo caso non tanto alla primaria ma anche nella primaria con una bussola in mano sai orientarti nel giardino della scuola o nel parco dove andiamo a fare la gita e a questo punto io descrivo quello che tu hai imparato posso dire che l'hai fatto in modo autonomo questo lo capiscono anche i genitori posso usare il termine da solo se è un bambino molto piccolo se noi la descrizione la facciamo in modo che capiscano i bambini che i bambini capiscano cosa hanno imparato cosa ancora non hanno acquisito e cosa dovrebbero fare per acquisirlo lo capiscono anche i genitori lo capiscono anche i genitori stranieri se noi usiamo i voti sembra che li capiscano tutti e non li capisce nessuno perché non si sa cosa ci sta dietro oppure ecco il pericolo che si usino frasi retoriche pompose impedagogese che in effetti non servono a nessuno quindi quello che noi abbiamo consigliato in tutta la formazione che abbiamo fatto tra l'altro che è presente sul sito online pubblica gratuita è stato uno dei primi casi in cui l'informazione su una nuova riforma è stata data a tutta la scuola nel suo complesso pubblicamente chiunque poteva venire ascoltare non era demandata a degli intermediari che non avevano partecipato ancora e che si affacciavano per la prima volta abbiamo fatto formazione in tutte le regioni su mandato ministeriale ai referenti delle diverse usr abbiamo formato i formatori in tutta questa formazione presente sul sito che si può andare a ricercare sul sito del ministero noi abbiamo detto di usare descrizioni comprensibili quei termini erano termini per l'insegnante per capire qual era il criterio se io uso un concetto astratto è chiaro che è sempre più complesso e poi un concetto tecnico un ingegnere un medico quando parla fra medici quando parla fra ingegneri usa termini tecnici se io devo parlare a un paziente o se sono un architetto devo parlare al mio cliente userò un altro tipo di linguaggio ma avendo in mente il concetto corretto quindi questa era la nostra intenzione ecco professoressa chiudiamo con un'ultima domanda da quello che lei ci ha detto secondo lei è possibile valutare un alunno senza dover necessariamente mettere un'etichetta ovvero è possibile una scuola senza voto allora farò una provocazione il problema non è il voto se io usi i livelli o come prima i giudizi sintetici sufficiente ottimo buono o abici con un voto la cosa non cambia il problema non è la valutazione finale il problema è imparare a fare la valutazione in itinere cambiare la cultura della valutazione pensando che non è certificativa ma è formativa come posso usare la valutazione per aiutare i miei allievi le mie allieve a imparare meglio ad apprendere di più in modo più efficace e duraturo cioè in modo che gli apprendimenti rimangano nel tempo e che siano apprendimenti anche complessi non solo delle singole nozioni di cui ho bisogno ma di quelle nozioni cosa me ne faccio per apprendere qualche cosa che mi aiuta ad andare avanti negli studi e a muovermi nel mondo quindi se il livello la valutazione viene usata per mettere in competizione i ragazzi ha un'altra funzione posso decidere di farlo perché è il mio progetto educativo non è il progetto educativo della scuola italiana perché le indicazioni nazionali dicono altro però quella è una scelta ma non è il valore della valutazione posso dare la colpa agli allievi perché non imparano ma forse questo non è valutare e fare un'altra operazione oppure posso imparare a valutare descrive aiutando i ragazzi a vedere avere uno specchio da me rispetto a quello che stanno imparando a restituire a loro si chiama feedback in inglese ma è restituzione restituire ai ragazzi alle ragazze i progressi che hanno fatto quello che hanno imparato quello che non hanno ancora imparato e soprattutto come posso dire loro come possono aiutarsi per imparare meglio e pensare io cosa posso fare come io e il corpo docente cosa posso fare perché imparino io credo che se c'è una cosa positiva che è successa dopo l'introduzione di questa riforma proprio per quello che dicevamo che non tanto per l'ordinanza che è stata fatta ma perché ripensare la valutazione vuol dire ripensare al proprio insegnamento che un numero enorme di scuole e di insegnanti che noi abbiamo seguito direttamente ma che sono stati seguiti anche dalle associazioni professionali dalle case editrici dalle università il coordinamento nazionale di scienze della formazione primaria ha fatto una formazione per tutti i futuri insegnanti su questo per i suoi laureati e per i tutor di tirocini a Raggera ha raggiunto molte scuole si è fatta formazione per ripensare all'efficacia dell'insegnamento non per imparare a dare un'etichetta non per applicare un tecnicismo che se vogliamo rappresenta un po' anche il vulnus il lato debole di questo percorso che è stato introdotto nella scuola perché alcuni insegnanti sono spaventati sono spaventati dal dover cambiare il loro modo di pensare la valutazione e di insegnare questo richiede tempo richiede pazienza non si possono ottenere risultati subito richiede che collegialmente ci si confronti ma ancora una volta le indicazioni nazionali ci dicono che la valutazione precede accompagna e segue che è un compito del docente ma che è un compito collegiale dei docenti valutare il percorso per migliorare e io credo che questa mobilitazione della scuola sia stata una cosa eccezionale a fronte anche di molte resistenze ma tutte le volte che introduciamo un cambiamento radicale non aspettiamoci che non ci siano resistenze per natura gli esseri umani soprattutto gli adulti cercano di mantenere lo status quo poi però se li accompagni possono modificare e scoprono un altro modo certo ci vuole un investimento sulla formazione e questo è stato fatto ma non in modo sistematico e diffuso cioè un problema una criticità è stato questo non si è investito a sufficienza ma in maniera strutturata diffusa pervasiva e organica sulla formazione sulla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici perché un altro elemento che emerge dalla ricerca è che c'è un 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 elemento di di forza un grimaldello per accompagnare il cambiamento è stato la convinzione e l'investimento dei dirigenti scolastici ci sono stati i dirigenti scolastici che hanno addirittura scoraggiato il cambiamento altri che si sono astenuti altri che ci hanno creduto l'hanno accompagnato hanno investito in formazione hanno affiancato i loro insegnanti sono venuti in formazione con i loro insegnanti e finisco dicendo due cose che sono state fatte molte ricerche di monitoraggio di questa riforma non a livello nazionale ministeriale ma sono state fatte dalle università l'università di Bologna di Reggio Emilia di Padova Verona Roma Lums Roma 3 Milano Bicocca per dirne solo alcune per dirne solo alcune quelle che sono più sono state sicuramente pubblicate da cui è emerso che dove ha funzionato questa nuova valutazione dove si faceva formazione già prima dove già prima gli insegnanti riflettevano insieme su come rendere più efficace il loro modo di insegnare e dove c'era la disponibilità a farlo ma anche dove è stata fatta formazione appunto mirata su questo un altro elemento è che ha funzionato quando si è investito sulla comunicazione con la famiglia lo diceva lei se io do una pagella senza neanche un colloquio ci sono scuole in cui non viene fatto un colloquio per consegnare le pagelle ci sono scuole dove da anni si fanno colloqui con ogni famiglia per presentare la pagella ma anche se la pagella è il singolo la scheda con gli indicatori e non c'è un accompagnamento una spiegazione gli insegnanti si sono sentiti scusi i genitori si sono sentiti confusi per i genitori è più semplice dire 6, 7, 8 siamo noi che dobbiamo spiegare che è più importante invece che io spieghi loro che cosa hanno imparato i loro figli tra l'altro quando lo faccio i genitori sono molto soddisfatti perché vedono veramente i progressi dei loro figli e quindi nelle scuole in cui si è lavorato sia come scuola come dirigente come corpo docente sia come singolo consiglio di classe o gruppo di insegnanti questo ha funzionato e sta funzionando anche nelle secondarie di primo e secondo grado dove si sta sperimentando non la scuola senza voto perché la scuola nella secondaria per legge chiede il voto finale la scuola senza voti in itinere perché la legge ci dice che in itinere possono andarli e in itinere si sta provando ad accompagnare i ragazzi i ragazzi sono più contenti si impegnano di più e soprattutto hanno migliori prestazioni bisognerebbe fare un maggior monitoraggio di questo se otteniamo migliori prestazioni utilizzando questo approccio alla valutazione che interroga me come insegnante sulla mia efficacia non so se ho risposto a sufficienza direi proprio di sì grazie a voi stessa per essere stata con noi grazie a voi di questa opportunità e in bocca al lupo a tutti gli insegnanti grazie a voi grazie a voi